5 curiosità su Maggie Maggie è stata una delle quattro leggende che sono state ascoltate come annunciatrici di una modalità di gioco prima di essere rese giocabili. Le altre sono Mirash, Revenant e Ash. È stata l'annunciatrice della modalità Ring Fury durante l'evento Chaos Theory Collection. Maggie è la prima leggenda ad avere una propria schermata di caricamento, ovvero Freedom of Salvo, della stagione 8 prima di essere resa giocabile. Maggie è neozelandese e alcune delle sue linee vocali la fanno parlare addirittura in lingua Maori. Maggie è tenuta in una cella di prigione tra le partite degli Apex Games. Maggie teneva il braccio mozzato di Fuse in un recipiente conservato. Iscriviti al canale per altre curiosità.